Il programma di welfare è una parte importante, non è la sola, proprio per far sì che all'interno delle nostre imprese la comunità delle nostre persone viva meglio, viva nel miglior modo non solo momenti lavorativi, ma viva la propria vita. Non è ovviamente naturale, ognuno di noi al lavoro passa per lo meno 8 ore, un terzo della propria giornata lavorativa e alla fine a livello anche di pensieri forse anche molto di più. Quindi è importante, il nostro lavoro fa parte della nostra vita, quindi far sì ogni sistema, ogni mezzo che riesce a dare supporto alle nostre famiglie, alle nostre persone, è certamente un punto fondamentale per superare i momenti complessi che stiamo vivendo, perché non è semplice. Grazie